Ettore Russo, ti ritroviamo in una nuova avventura e la prima cosa che ti chiedo è che cosa significa essere un distributore diverso, un distributore in più. Già la parola distributore è una parola di difficile applicazione per un'avventura come quella che stiamo percorrendo, nel senso che la nostra volontà non è quella di essere un distributore tradizionale, forse addirittura la parola distributore è troppo. Nel DNA di Omnivolt non c'è quello della vendita come tradizionalmente conosciuta, basti pensare che non abbiamo un banco, non abbiamo un banco vendita, strutture che normalmente si vedono nella storicità delle altre aziende leader in questo settore. C'è uno showroom tecnologico che ospita chi ci viene a trovare, c'è una parte piccola dedicata al magazzino, ma perché il magazzino vuole essere quella profondità e quella scelta tecnologica che permette ai nostri clienti di riuscire a trovare le soluzioni elettrotecniche integrate che noi proponiamo. Se te prendi il nostro marchio, sotto c'è proprio scritto Omnivolt, soluzioni elettrotecniche integrate, perché il mio grande obiettivo, il nostro grande obiettivo non è quello di vendere prodotti, ma è quello di vendere soluzioni. Questa volta però invece solo. Io sono un passionale, io sono uno che si emoziona, io sono uno che crede nel mondo digitale, crede nella parte di investimento nel futuro, ma crede tantissimo alle relazioni personali. Io credo che la differenza ancora sia fatta nella credibilità, sia fatta nel guardarsi negli occhi, sia fatta nelle relazioni e penso che un certo tipo di standardizzazione sicuramente può portare dei volumi incredibili, ma si limita su alcune opportunità dove i contenuti, le competenze, il team, le persone fanno una profonda differenza. Non sono solo, perché è vero che il 50% dell'azienda è mia, ricopro il ruolo di amministratore delegato e presidente, però è vero che ho un socio in questa avventura, è un socio che io conosco e con cui lavoro da oltre 20 anni, un socio che mi permette di dormire sonni tranquilli, un'azienda, non è una persona, ma un'azienda, un'azienda serissima, un'azienda che nel proprio settore rappresenta una sicurezza, una certezza, una grande storicità e anche dei volumi tali da posizionarla e da permettermi di sentirmi non solo, anzi con un alleato che mi fa guardare al futuro veramente in maniera positiva e sicura. Io, Ettore, mi ricordo di te, l'ultima volta che ci siamo parlati, con una posizione invidiabile e adesso ti ritrovo in questa battaglia dove certamente la situazione è molto differente. Questo mi sorprende positivamente perché dico allora il mondo elettrico non è così impaludato come sembra. Il mondo elettrico sicuramente non è così impaludato, sicuramente, diciamo che è servito tanto coraggio, no? Perché come hai detto te, lasciare rassegnare le mie dimissioni, io ero legato nella vecchia azienda a due contratti, un contratto come amministratore, un contratto come dirigente, ti assicuro che a 42 anni, prendere il coraggio a due mani, rassegnare le mie dimissioni della posizione che avevo, non è stata una cosa banale, però io sono profondamente convinto che intanto i sogni vanno rispettati, no? Il giorno che ognuno di noi che abbia 6, 12, 25, 60 anni smette di sognare è finita. Io ho sempre avuto questo sogno, ho sempre avuto il sogno di rimettermi in gioco. Per me questo qua vuol dire energia vitale, vuol dire passione. In queste interviste immagino che tu se mi conosci mi vedrai stanco, stanco ma soddisfatto. Sto lavorando come prima se non più di prima, però oggettivamente le sfide, gli stimoli, l'entusiasmo, le persone, anche i riscontri, no? Perché poi quando inizi queste nuove sfide tu ti rendi conto veramente del peso delle persone, ci stanno tante persone da cui mi aspettavo tantissimo, pensavo di avergli dato tantissimo, e viceversa si sono girati dall'altra parte e tantissime invece forme di gratitudine, di ringraziamento, di rispetto, che ti danno quella grinta, quella forza, quella voglia di guardare al futuro e di continuare a investire. Qui c'hai una squadra dove io ho visto dei volti stranoti, quindi voglio dire c'è della gente che ha voglia di credere in te. Allora Giancarlo, io intanto ti dico che il numero Omniquart parte, ora siamo 18, per cui un team da una parte importante, dall'altra insomma un numero che sta iniziando a partire, no? Però sui volti stranoti mi permetto di dissentire, perché Omniquart è un'azienda giovanissima, un'azienda composta da tantissimi ragazzi, io penso a Alessia, all'ingegner Colangeli, alla dottoressa Labate, sono ragazzi, ragazze, hanno 27, 25, 28 anni, quindi c'è un DNA molto giovane. Ci stanno degli operativi storicizzati, due in particolare che hanno 40 anni, ma che hanno 20 anni di esperienza. Viceversa, se te per noti pensi a Luigi Brusatelli, che ovviamente per famiglia ha scritto delle pagine importanti nella storia dell'elettrotecnica, anziché l'architetto Casciotta e Lino Tursi, loro due sono due persone, perché è vero prendere tanti giovani, dall'altra parte servono delle guide che li portano, no? Per cui vanno accompagnati. Questo è fondamentale. Però il team e le competenze per me sono fondamentali. Non voglio entrare nel dettaglio di quello che ho vissuto fino a ieri. Io posso dirti che fino a ieri, non voglio dire bastava, il mercato recepiva un certo tipo di attività fatta da persone che giustamente crescevano col lavoro, rimboccandosi le maniche, che è rispettabile. Oggi per affrontare un certo tipo di mercato, un certo tipo di logiche, prima di arrivare alla grinta, alla fame, che sono fondamentali, ci deve essere una base di competenze. E io penso di aver costruito un team che ha le competenze per poter fare questo tipo di percorso. Siamo qua vicino al famosissimo grande raccordo anulare. Io non sono di Roma, per me è famosissimo. Per voi forse è terribile. Allora, ed è la base di partenza. Ma è di partenza per l'impresa, ma è anche di partenza per un'espansione. Diciamo che sto lavorando già su altri due progetti importanti. Non su Roma, su due città importantissime italiane, ma non sono Roma. Non c'è fretta, ovviamente. Adesso la priorità è consolidare, strutturare e porre radici profonde per questa sede. Però ci stanno degli scenari che non sto sottovalutando, sempre partendo dalle persone che vengono prima, per poter esportare questo progetto in cui credo anche su altri mercati. Su Roma, invece, città. Dubito fortemente di vedere un'altra, di replicare una struttura come quella che può essere Omnivort oggi. Potrei pensare di lanciare un altro modello magari all'interno proprio della città, sempre attraverso nuovi format, nuove concezioni, nuovi approcci. Hanno partecipato anche dei produttori che sono arrivati con l'aereo, in macchina, in treno, un po' tutta Italia. Allora, la domanda è questa. Siccome poi ci sono tutti gli equilibri di mercato e loro ovviamente sono produttori e fornitori anche delle altre grandi apparati di distribuzione, qual è stata la loro reazione a questa tua uscita? La volontà di Omnivort non è quella di essere un generalista. Quindi ho selezionato, io e il team abbiamo selezionato un numero di prodotti e di produttori specifico sul cui abbiamo voluto investire, che ovviamente abbiamo contrattualizzato, sui quali abbiamo deciso di gestire un'ampiezza e una profondità di prodotti importante. Perché abbiamo voluto differenziare rispetto alla proposta dei punti vendita, non parlo dei logisti, dei punti vendita tradizionali che negli ultimi periodi hanno sempre deciso di lavorare con un numero di produttori ridondanti fra di loro che non gli permetteva di avere invece quella profondità fondamentale per erogare il servizio al cliente nel ritiro dell'immediato. Fatte queste scelte strategiche, ovviamente io mi sono appoggiato ai produttori che nella mia storia, nei miei ultimi 22 anni, ho amato di più. Ho avuto tantissime attestati di stima e di fiducia e qua torniamo ai rapporti, due parlate di persone hanno preso gli aerei, i treni per venire. Ma io forse in alcuni casi può essere banalmente amicizia, in altri sarà rispetto, in altri sarà forse che credono che Omnivort possa fare qualcosa di differente. Io posso dirti che tantissimi fornitori, quando io ho appena costituito l'azienda, non avevo nemmeno firmato il contratto per questo immobile, con una stretta di mano mi hanno detto, Ettore, con te io faccio qualsiasi cosa. Questo qua è stato una delle più grandi soddisfazioni perché oggettivamente si vive anche di queste cose al di là dei numeri, guardando al futuro avere dei partner con queste grandi dimostrazioni ti fanno affrontare il mercato in maniera diversa. Ti dico anche che mi ricorderò di chi veramente mi ha messo in condizioni di partire in maniera così veloce e così anche competitiva. Proveremo a fare il nostro lavoro cercando di fare un altro tipo di mestiere, che una piccola parte del business che normalmente poteva cadere nella distribuzione elettrotecnica organizzata possa finire qua, però penso che dagli end user all'impresa, servizi accessori. Giancarlo, io penso che il nostro business non si gestisca sulla vendita del prodotto. A me non interessa che venga Giancarlo a comprarmi tre interruttori, quattro spine e due lampade. Io spero che Giancarlo venga da me e mi dica, devo allestire un ufficio direzionale. Insieme ci sediamo e insieme progettiamo e costruiamo quel tipo di soluzione. Perciò il mio focus è il pre-vendita, quindi prescrizione, consulenza, progettazione. La parte post-vendita, quindi programmazione, messa in funzione, sono questi i servizi che fanno la differenza come dicevo con le persone, con il team, con i contenuti, con l'esperienza, con tutto quello che ci contraddistingue. Se io fossi così matto a fare un campionato per andare a fare il solletico alle big, non ho né la struttura, né la forza, né il potere di mercato, né i volumi. Stanco ma felice? Stanco, molto felice. I volumi sono oggettivamente superiori a ogni mia più rosa aspettativa, ma anche, e l'hai visto dalla festa di stasera, no, le dimostrazioni di affetto e di spinta che sono quelle che ti danno l'energia, ti danno il gas, ti danno la voglia stasera di tornare a casa tardissimo, stanchissimo, ma domani mattina all'alba di ripartire con più grinta e più fame del giorno prima. Stanco. 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 Stanco.